Mancano 149 giorni alla fine dell'anno, siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rainerio. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero porta fortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è l'agata. Accadde oggi. Il 4 agosto del 1974 sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita dalla Galleria Appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto ricordiamo il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e il jazzista americano Louis Armstrong. La citazione del giorno. È necessario che tu viva per un'altra persona se vuoi vivere per te stesso. Lucioanneo Seneca. Dice il saggio. La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Il bel paese. Anche sottoterra l'Italia presenta molti tesori e non sempre provenienti da un lontano passato. La stazione Toledo della metropolitana di Napoli nel quartiere San Giuseppe è considerata una tra le più belle del mondo. Il design è caratterizzato da mosaici colorati da una gamma completa di sfumature di blu. Durante la realizzazione della stazione, gli scavi hanno portato alla luce diversi reperti archeologici e strutture di epoca romana risalenti al secondo secolo dopo Cristo. Secondo il quotidiano inglese The Daily Telegraph è la stazione della metropolitana più bella d'Europa.